hai visto le due anna a 3 grosse vedi che è pulita perca puttrella non ne c'è più eh devi andare su di lì spampi di là eh di là eh cazzo le sabbie mobili oh la lascio qua eh andiamo eh il problema è che dopo qua non scendi più cazzo so Grazie a tutti. No, è bassa, si può passare. Sotto non siamo mai andati perché è nuovo. Grazie a tutti.